Ciao a tutti amici di Multiplayer, siamo qua al party di Wargaming, come vedete si gioca, come possiamo vedere dal tavolo che vorrebbe essere verde ma invece è azzurro, si gioca in tonia, dovremmo vincere, secondo me questi video saranno tutti in mondo, si gioca, si vince, se si vince si vince una scheda grafica, abbiamo il gruppetto Swing, abbiamo le birrette, abbiamo la scommessa, vediamo se ho perso, se ho vinto, non lo so, Comunque, da Wargaming, per World of War, ci per tutto, saluti e baci da Lorenzo, ciao a tutti Mi ha deciso di esagerare con le ballerine dei bicchieri, un po' burlesque, ma da Wargaming è così, i russi vanno lasciati fare su certe cose, quindi vi lascio alle immagini Ciao a tutti, questa birretta è per voi, multiplayer.it, ciao ciao ciao